MESS, soluzioni per la gestione elettrica. La MESS di Gianfelice Salvetti si occupa della vendita e della fornitura di materiale elettrico. L'azienda offre un vasto assortimento di videocitofonia, cavi e conduttori elettrici, microinterruttori, antifurti, ma anche automatismi per cancelli elettrici e telecamere a circuito chiuso. Presso l'azienda MESS di Gianfelice Salvetti si possono inoltre trovare lampade, lampadine, interruttori, prese, spine, centraline e salvavita, interruttori automatici, placche, prolunghe e termoconvettori. La MESS di Gianfelice Salvetti tratta solo prodotti delle migliori marche, tra cui Arno Canali, Bocchiotti, Farfisa Merlin e Gerin, Philips, Siemens, Vimar e Vortice. Grazie a tutti.